Ciao, sono Valerio Novara di Ciacchiazione e quest'anno la cerimonia dei Golden Globe non verrà trasmessa in diretta dalle emittenti televisive. Il motivo è risalente all'anno scorso quando ci fu una polemica da parte di molte star di Hollywood, tra cui Tom Cruise che ha rinunciato ai suoi Golden Globe vinti per la poca inclusività dei Golden Globe. Ricordiamo che la giuria dei Golden Globe è fatta di giornalisti, quella degli Oscar dall'Academy che sono gli addetti ai lavori, quindi attori, registri, sceneggiatori e via dicendo. Quest'anno non verrà trasmessa in televisione nemmeno da Sky. Noi di Ciacchiazione manderemo in diretta la cerimonia sul nostro canale YouTube al quale vi consiglio di iscrivervi e sulla nostra pagina Facebook Ciacchiazione alla quale vi consiglio di mettere mi piace. Seguiremo la cerimonia a partire dalla mezzanotte di domenica sera e la commenteremo insieme per darvi la possibilità di assistere a questa cerimonia che è la prima cerimonia importante dell'anno e alla quale non volevamo rinunciare e così abbiamo deciso di trasmetterla in esclusiva. Traducendola per voi ci sarà la nostra Serena che mi aiuterà in questo arduo lavoro per aspettare la premiazione dei film e delle serie TV dell'anno. Quindi appuntamento a domenica, mezzanotte, sul canale YouTube Ciacchiazione e sulla pagina Facebook di Ciacchiazione. Io sono Valerio e vi saluto.